Ciao a tutti, siamo appena tornati e il giorno di Pasqua siamo andate a fare un giro in centro e ho pensato di fare un video outfit, se vi può far piacere, se vi piace me lo fate sapere e continuo a farli altrimenti resta un esperimento. Allora, un outfit molto disimpegnato a niente di che, comincio dalle scarpe, sono degli stivaletti che ho preso in un negozietto di Roma che non avevo mai sentito nominare, era una nuova apertura, si chiama Gracie se non mi sbaglio, sono questi stivaletti con un bel tacco, si sarà un 8 cm credo, color fango, dietro hanno queste borchette, fammi segno se si vede ok, di qua abbiamo la cegnerina, sono molto carine ma non sono tanto comode perché come vedete il tacco è alto ma non c'è il plateau, quindi comunque dopo un po' che le avete su la pianta comincia a far male. Come jeans, skinny, normalissimi, presi da Tally Whale, sono normalissimi, chiari, hanno queste taschine che sono finte, li ho pagati se non mi sbaglio intorno ai 20 euro, anche meno, 19-18 non mi ricordo bene, 3-4 giorni fa, quindi ancora sono in negozio. La camicia invece l'ho presa tipo prima di Natale, quindi è passato un bel po' di tempo, non mi ricordo quanto l'ho pagata, l'ho presa da Artigli, è questa camicia verde con tutti i dettagli dorati, io amo il contrasto verde-dorato, mi piace tantissimo. Ecco qui, anche la cinturina l'ho trovata su insomma con la camicia, molto carina da mettere anche con dei leggings belli coprenti. Sotto ho messo una canottierina, perché finalmente oggi il sole si è degnato di uscire, fa abbastanza solo 17 gradi, quindi insomma si poteva fare. Poi, come accessori ho questo anello che mi ha regalato il mio fidanzato, a cui tengo tantissimo, questo braccialetto che ho preso in una bancarella sul lungomare di rossetto capospulico in Calabria, molto bello, li facevano loro a mano in madreperla, verde acqua, veramente carino. E poi ho questi orecchini, questi qui li ha fatti, sono in fimo, li ha fatti Karen, che sicuramente conoscerete, 01Karen89, se non mi sbaglio 87, scusa Karen, comunque metto i link del suo canale nel box informazioni, li ho vinti in un giveaway, primo e unico giveaway che ho vinto, me li ha dati al Cosmoprof dell'anno scorso, con l'occasione ci siamo conosciute, poi ci siamo riviste, e ci rivedremo presto. Ciao Karen, con l'occasione ti saluto. Vi volevo far vedere il trucco perché se vi piace me lo fate sapere e magari faccio un video e vi dico che prodotti ho utilizzato. Fatemi sapere voi, insomma, se vi interessa, io vi faccio volentieri un video sui prodotti che ho utilizzato. Niente, mi sembra di avervi detto tutto, volevo ricordarvi, se vi fa piacere, se vi piacciono i video, di iscrivervi al mio canale, grazie a chi si è già iscritto, vi auguro una buona Pasqua, una divertente Pasquetta e vi mando un bacio. Ciao!